Sialodato Gesù Cristo Il santuario di Lourdes è noto in tutto il mondo come il santuario dell'Immacolata. Lì, infatti, la Madonna, rispondendo alle continue richieste della limpida e semplice Bernadette Subiru, il 25 marzo del 1858 rivelò il suo nome e si definì così, io sono l'Immacolata Concezione. Cioè, il mio cuore è rimasto sempre limpido, non è stato mai lambito dal peccato, che è una manciata di fango che sporca la limpidezza del cuore umano, e soprattutto sporca l'amore e lo trasforma in egoismo che è l'esatto contrario dell'amore. Ma attenti, due anni fa, il fiume Gave, che scorre accanto alla grotta dell'Immacolata, ha trascimato, ha invaso la grotta con la sua acqua limacciosa, che ritirandosi ha lasciato uno spesso strato di fango. Il fatto fece tanta impressione. E poiché tutto è segno, ritengo che sia giusto chiedersi quale messaggio, quale segnale si nasconde dietro questo fango che ha invaso proprio la grotta dell'Immacolata? Credo che la Madonna abbia voluto dirci, vi siete sporcati, avete tradito l'amore, l'avete infangato. Ma la Teresa, chi di amore se ne intendeva, di amore vero, non si stancava di dire oggi la più grande menzogna è quella che riguarda l'amore. Molti non sanno più cos'è l'amore, al punto tale che viene chiamato amore anche andare con una prostituta che menzogna. Proviamo a riflettere. Oggi attorno alla purezza si è creato un grande silenzio, un silenzio impuro. Eppure la purezza è indispensabile. È indispensabile per far sbocciare l'amore vero. L'amore, infatti, è dono di sé. Ma per donare se stessi bisogna possedersi. La purezza è la capacità di possedere i propri sentimenti per potersi donare in tutti gli ambiti, nel matrimonio, ma anche nell'amicizia, anche nella vita di relazione con tutto il prossimo. E la sessualità, nel progetto di Dio, è il linguaggio corporeo attraverso il quale deve esprimersi l'amore. Ma se l'amore manca, la sessualità degendere in capriccio, in esclusivo gioco dei corpi, fino al disgusto, fino all'isprezzo. Ida Magli, scomparso recentemente, 2016, è stata da tutti riconosciuta come seria e documentata studiosa delle società primitive, poi del Medioevo, e infine della società contemporanea. Ebbene, Ida Magli, sulla base della sua indiscussa competenza di antropologa, ha dichiarato L'attuale contemporanea indigestione di sesso porta alla distruzione dell'intelligenza umana e quindi la stessa società. Sono parole gravissime e confermate da ciò che quotidianamente sta accadendo in tanti giovani e in tanti adulti incapaci di amare. Incapaci di amare. D'altro canto è ovvio che se le fonti stesse della vita umana vengono devastate dal capriccio e dall'egoismo, la società non ha futuro, si autodistrugge. A questo punto ascoltiamo la testimonianza di un giovane che è stato travolto dalla sessualità non educata e non guidata dalla purezza. Quindi è stato travolto da una sessualità senza amore. Intendo parlare di Alessandro Serenelli, il giovane che il 5 luglio 1902 pugnalò Maria Goretti perché non voleva essere usata come oggetto per sfogare una vergognosa passione senza amore. Alessandro Serenelli prima di morire ha lasciato un piccolo testamento che merita ancora di essere letto e meditato. Dice così Sono vecchio di quasi 80 anni prossimo a chiudere la mia giornata dando uno sguardo al passato riconosco che nella mia prima giovinezza infilai una strada falsa la via del mare che mi condusse alla rovina. Vedevo attraverso la stampa e gli spettacoli tanti cattivi esempi e la maggior parte dei giovani segue quella via segue quegli esempi senza darsi pensiero ed io pure non me ne preoccupai oggi accade la stessa cosa. Continua Alessandro Alessandro chiaramente afferma che la giovinezza è la stagione decisiva della vita è la stagione degli orientamenti e delle decisioni che influenzano tutta la successiva esistenza come dovremmo ricordarlo ai giovani e a tanti genitori che spesso sono diseducatori dei figli al punto tale che sono stati definiti recentemente adultescenti. Come dovrebbe essere completamente ripensato il modo di vivere la giovinezza? La giovinezza non è il tempo della trasgressione della libertà senza regole pensare così è un errore fatale che autodistrugge il giovane perché lo rende incapace di amare e di affrontare le future sfide e i futuri impegni della vita e pertanto lo introduce nell'infelicità e lo rende moltiplicatore di infelicità. Seguiamo ancora il testamento di Alessandro Serenelli dice così persone credenti e praticanti le avevo vicino a me ma non ci badavo accecato da una forza tanto bruta che mi spingeva per una strada cattiva consumai a vent'anni il delitto passionale del quale oggi inorridisco al solo ricordo Maria Goretti ora santa fu l'angelo buono che la provvidenza aveva messo avanti ai miei passi ho impresse ancora nel cuore le sue parole di rimprovero e di perdono pregò per me intercedete per me suo uccisore seguirono trent'anni di prigione se non fossi stato minorenne sarei stato condannato a vita accettai la sentenza che era meritata era assegnato e spiai la mia colpa Maria Goretti fu veramente la mia luce la mia protettrice con il suo aiuto mi comportai bene e cerchai di vivere onestamente quando la società mi riaccettò tra i suoi membri coloro che leggeranno questa mia lettera vogliano trarre il felice insegnamento di fuggire il male di seguire il bene sempre fin da fanciulli pensino che la religione con i suoi precetti non è una cosa di cui si può fare a meno ma il vero conforto l'unica via sicura in tutte le circostanze anche le più dolorose della vita pace e bene firmato Alessandro Serenelli queste parole non hanno bisogno di commento sono il grido di un uomo che avendo provato l'orrore dello smandamento desidera che altri non si incamminino per la stessa strada raccogliamo l'appello che esce dalla storia di Alessandro e che è questo educhiamo i giovani al vero sentimento dell'amore educhiamoli alla purezza del cuore liberandoli dall'illusione di poter diventare liberi cedendo ad ogni istinto la libertà sta nell'essere padroni dei propri sentimenti per farli diventare dono di amore se infanghiamo questo incantevole patrimonio che Dio ci ha consegnato non faremo altro che ripetere la storia tragica di Alessandro in tanti altri Alessandri come sta accadendo Vergine Immacolata donna purissima e per questo capace di amore vero Vergine Immacolata abisci gli occhi e il cuore affinché ritroviamo la via della purezza che sboccia in vero amore Vergine Immacolata prega per noi Amen Sialodato Gesù Cristo Grazie a tutti